Sindaco, dopo l'arte la città si apre ai giovani e agli universitari? Sì, lo è sempre stata a Bologna, rilanciamo, questa volta a fianco dell'università scende in campo il comune e quindi presenteremo l'offerta complessiva riservata agli studenti che decideranno di stare qui a Bologna per il loro corso di studi, dagli sconti su tutti i servizi ai luoghi ai quali possono accedere all'attività che sono a disposizione dei giovani studenti che verranno a Bologna. Noi vogliamo sempre più costruire insieme all'università una rete vera di accoglienza, quindi informare su tutte le opportunità che questa città è in grado di dare ai giovani e nello stesso tempo creare un percorso di inserimento. Bologna Fera si apre agli universitari con anche spettacoli non solo informativi ma anche di entertainment. Chi sceglie di studiare a Bologna sceglie perché c'è una grandissima università di grande tradizione ma lo dico io da vecchio studente fuori sede anche perché incontra una bella città accogliente, ospitale e quindi Universiti vuole un po' testimoniare da subito tutto questo con le istituzioni culturali, sportive, economiche che mostrano agli studenti che cosa a Bologna si fa con lo sport, con il lavoro, con il fare imprese e contemporaneamente che a Bologna non a caso è di nuovo la prima città in Italia per l'offerta di servizi culturali. Noi cerchiamo di rispondere al nostro dovere storico che è quello di dare un'ottima formazione ai ragazzi e questo rimane valido, ora però da alcuni anni abbiamo un compito supplementare anche noi di fare da ponte con il mondo del lavoro e quindi tramite gli stais, tramite i contratti, le convenzioni, i legami con la città, con tutti ormai è arrivato il momento in cui nessuno può operare più da solo, l'università è da anni che su questa strada ora lo sentiamo ancora di più che uno non può solo pensare alla ricerca e alla didattica ma deve pensare anche al dopo per questi ragazzi, è anche una soddisfazione nostra. Vedere poi che quando vanno fuori all'estero sono i migliori, piange il cuore perché questo paese li forma, contribuente paga e poi chiave in mano li regaliamo allo straniero, non va bene. Grazie